FPGA sono le iniziali che contraddistinguono forma e poesia nel jazz, una rassegna che da tanti anni allieta che gli eritani e non all'insegna della musica ma anche di altre forme che hanno a che fare con la poesia, con il jazz e con la musica in generale. Questa volta per introdurre la rassegna che inizierà tra breve ci sarà il concerto di Andrea Schiru che abbiamo qui al nostro fianco. Andrea Schiru è un grande pianista, vi consiglio assolutamente di andare a sentirlo. Emozionato? Sì, è emozionato anche perché suonerò al Parco delle Emozioni quindi dovrei essere super emozionato. Dove si trova il Parco delle Emozioni? Si trova a Cagliari, via La Palma, quindi alle Saline e il concerto sarà alle 7 del mattino quindi un concerto per colazione diciamo in cui io suonerò le mie composizioni e accompagnerò appunto la colazione per l'anteprima di forma e poesia nel jazz. Parla di Anteprima perché poi ci sarà una propagine verso le 11 e poi la serata che investirà altri due gruppi. Che sono? Sono i Dance for the Stompers, una delle mie band alle 20.30 all'Azzaretto che aprono il concerto ai grandi Savana Funk. Savana Funk è da dove vengono e chi sono? Non farmi dormire troppo difficili, vengono dal continente. Ecco, te la sei cavata a buon mercato ma parecchi sono molto bravi, molto interessanti. Quest'ultimo dove si terrà? All'Azzaretto? All'Azzaretto, all'Azzaretto alle 20.30, sì. All'Azzaretto che si trova a Sant'Elia, quindi tutti e dalle 20.30 a riempire le sedie dell'Azzaretto. Assolutamente sì, vi aspettiamo. All'Azzaretto.